Buongiorno e bentornati sul mio canale YouTube. Oggi voglio rispondere a una domanda che in questi anni mi è stata rivolta spesso, ossia se l'allenamento in palestra blocca la crescita. Spesso mi hanno scritto dei ragazzini, 14-15 anni, altre volte delle mamme preoccupate, altre volte i loro papà. Diciamo che l'allenamento in palestra non blocca in nessun modo la crescita. La crescita, ossia l'altezza di quanto diventerete alti, è dettata esclusivamente dai vostri geni, quindi dalla genetica. Non si può bloccare con l'allenamento in palestra, con i sovraccarichi, con la pesistica, l'altezza finale di un individuo. Diciamo che anzi tutto l'allenamento, tutto il movimento, tutto lo sport non può che aiutarvi a crescere meglio e diventare più forti. Ci sono anche degli studi che dimostrano come l'allenamento di pesistica possa dare alle ossa un maggior atrofismo, dare una migliore densità. Quindi questo vi permetterà di crescere meglio. Diciamo che ovviamente valgono le buone regole dell'allenamento, quindi un ragazzino che incomincia ad allenarsi dovrà puntare innanzitutto sull'apprendimento della tecnica, dei vari esercizi proposti, degli esercizi fondamentali e dovrà progredire adattando il carico ovviamente al suo livello di forza. Quindi le stesse regole che valgono poi per una persona anche adulta. Non è che arriva per la persona adulta e gli mettiamo sul bilanciere subito 150 kg. No, si parte gradualmente dal bilanciere scarico, si apprende il movimento, la tecnica corretta, si automatizza e di volta in volta si cerca di incrementare leggermente il carico d'allenamento. Quindi si partirà col bilanciere scarico, si aumenterà di un chilo per volta e man mano nel corso delle settimane, dei mesi, negli anni, in base un po' anche alla vostra predisposizione, riuscirete a sollevare carichi maggiori. Ma se vi allenate, rispettate questi principi del buon allenamento, state sicuri che la vostra altezza non si blocca, ma riuscirete a rendersi il vostro fisico forte, funzionale e prestante. Io spero di avervi risolto questo grosso dubbio, allenatevi, anzi allenatevi sodo e vedrete che il vostro fisico vi ringrazierà. Ci vediamo in un prossimo video e se non siete ancora iscritti al mio canale, iscrivetevi subito. Ciao ciao!